buonasera sono bianca maria scheda per gli amici scheda bianca vorrei sapere chi è quel mattarella mattarella ecco appunto mi sta scrivendo proprio lui mattarella e no vinto io bianca maria scheda per gli amici scheda bianca e che cazzo e no signor capaldo no no e no e no la barba ce l'ho perché non si batte chiodo non Roberto non si batte chiodo modo di dire oddio cosa ho detto che scattino in tempesta nel pensatore di io non volevo scusate comunque scheda bianca la vera presidente della repubblica questi cazzi e dom vi consenta no questo è un altro in questo non è sempre niente scusate scusate